Iniziativa del WWF Per un richiamo contro lo spreco di energia che surriscalda il pianeta Per sensibilizzare le spazioni e tutto il pianeta Al risparmio energetico Ma vediamo Francesco Totti che spegne il Colosseo Va alle 20.30, alle 21.30 Sarà l'ora della Terra Spegni anche tu la luce E dai una mano Non potete proprio mancare Sarà l'ora della Terra Spegniamo tutti la luce Per combattere contro i cambiamenti del clima Possiamo ancora fare qualcosa Col clima non c'è niente da scherzare Mini con il clima non si scherza Per maggiori informazioni collegatevi sul sito 60 minuti al buio Per accendere un messaggio di speranza Che risuoneranno ogni angolo del mondo E anche durante l'anno vi chiedo di utilizzare questo mezzo Che non consuma, non inquire Un piccolo gesto della tua quotidianità Per contribuire veramente ad un futuro più sostenibile Mi raccomando, non mancate a voi Lo va tutto il mondo Facciamolo pure noi Do subito il buon esempio Spegnendo la luce Fatti Fatti